Ehi, messicano, dove hai preso quella croce? Che ti importa? Sei troppo curioso, amico. Non lo sai che i curiosi campano poco? La taglia. Ti fanno gola quei 3.000 dollari, vero? Non è che mi fanno gola. È come se li avessi in tasca. È arrivato il pulbo, ma non sei il primo a provarci. Perché non li cerchi all'ombra di qualche albero? O sotto qualche cespuglio? Siete troppo delicati, voi due. Si dice, in bocca ai vermi. Idioti! Pensate alla pelle. Quei 3.000 dollari io li voglio. Li vuoi in piombo? Ah! Li preferisco in dollari d'argento.